Purtroppo ormai la domenica è la giornata dei DPCM ed è la giornata in cui anche come UISP ma come mondo della promozione sportiva ci troviamo a fare i conti con i provvedimenti, a leggerli, a prendere posizioni nette. Noi crediamo ieri di averne presa assunta una molto netta, molto chiara, no non ci stiamo abbiamo detto ieri come UISP nazionale, come presidenza nazionale un appello, considerazioni che sono state colte da tutto il mondo dei media locali e nazionale perché abbiamo detto crediamo una cosa chiara, lo abbiamo sottolineato ancora una volta dall'inizio di questa tremenda emergenza siamo sempre stati sul filo, molto sottile tra ovviamente responsabilità assoluta verso il bene primario della salute dei cittadini, il nostro dovere di rappresentanza verso un movimento che lo ricordiamo ancora una volta rappresenta qualcosa come oltre un milione e trecentomila tesserati in tutta Italia, 55 mila solo che per restare nella nostra Liguria quasi mille associazioni e società sportive tra cui tanti soggetti gestori di impianti, di centri sportivi, di palestre, di piscine. Noi ieri abbiamo appunto lanciato questo grido veramente che ormai è un grido di allarme, no non ci stiamo a cosa? All'incongruenze che questo DPCM ha messo in luce rispetto ai diversi comparti che interessano le misure del provvedimento stesso. Lo abbiamo detto, non può essere lo sport ancora una volta a pagare le conseguenze di queste scelte. Nei mesi lo abbiamo detto tante volte, lo abbiamo detto tante volte, tantissime volte dagli schermi proprio e dai microfoni di primo canale, quindi grazie ancora per il vostro grande lavoro per dare voce a tutti i comparti veramente senza alcuna discriminazione e disparità. Lo abbiamo detto, lo sport non è più come poteva essere fino a un po' di anni fa tempo libero, non è solo una cosa superflua da eliminare in un momento come questo. Anzi, lo sport è prevenzione, lo sport è promozione della salute, quindi lo sport è un bene imprescindibile proprio delle politiche pubbliche ma è altrettanto economia, economia sociale, è impresa sociale, in tante situazioni è anche impresa. Quindi si va anche oltre quella che è un po' il nostro mondo, la nostra filiera del privato sociale, del non profit, ci sono anche vere e proprie imprese, quindi imprenditori che hanno investito. E in queste settimane, in questi mesi hanno investito molto, imprenditori, associazioni, società sportive dilettantistiche, mondo del volontariato e crediamo ecco che questo stop dopo come hai appunto correttamente e bene sottolineato in apertura dopo neanche una settimana da quelle dichiarazioni del Premier. C'è un mondo ecco che non va, noi diciamo considerato marginale, pensiamo che sia un'attività importante, poi potremo aggiungere tante altre considerazioni, soprattutto sulla sicurezza non solo dei nostri ambienti, dei luoghi dove praticare sport, siano essi all'aperto o al chiuso, ma anche proprio come luoghi sicuri. Pensiamo soprattutto ai nostri ragazzi che in questo momento con una didattica a distanza scuola ovviamente non gli è proibito uscire e quindi probabilmente ecco si incontreranno, faranno, rischieranno ecco di fare assembramenti magari in luoghi che non sono luoghi controllati come i luoghi dello sport. Potremmo ricordare, ma mi fermo qua Luca, ovviamente anche tutto il grande lavoro di aderenza ai protocolli rigidi. Io in questo momento posso andare ancora a fruire di luoghi pubblici anche istituzionali, entrare tranquillamente, magari nessuno mi misura la temperatura e altro, quando sappiamo che dal primo momento invece entrare in una palestra, entrare in un centro sportivo, entrare, e noi lo sai come Wisp ci abbiamo provato, entrare su un campo sportivo per andare a giocare una partita di calcio del lavoratore, attività che ovviamente abbiamo sospeso, in questo caso è il calcio 11 storico del Wisp di Genova, avremmo seguito e seguivamo protocolli molto molto rigidi che forse non hanno uguali nessun'altra attività o quasi. Enrico, buongiorno, ti chiedevo, il ministro Spadafora secondo te poteva essere un utile interlocutore fondamentale per far capire le esigenze dello sport al Premier? Ma ciao Enrico, nuovamente grazie di questo spunto importante, ma noi nei mesi lo abbiamo come dire detto più volte, siamo sempre stati molto attenti, con un'interlocuzione molto anche fitta in questo caso diciamo dall'osservatorio del Wisp nazionale per il mio ruolo di vicepresidente nazionale accanto al presidente Vincenzo Manco. Il ministro, dobbiamo dire, è sempre stato un interlocutore molto attento, dobbiamo sicuramente alla sua azione di governo, se anche nei mesi precedenti sono arrivati dei primi segnali tangibili di sostegno. Sappiamo che probabilmente, anzi togliamo pure probabilmente, se non fosse stata per l'azione del ministro Spadafora lo sport sarebbe già stato chiuso da una settimana, sappiamo ovviamente le mediazioni raggiunte col ministro della salute, col comitato tecnico scientifico. Quindi sicuramente grande attenzione, questo spunto mi dà modo di sottolineare un altro aspetto importante che è quello ovviamente delle misure economiche che ci aspettiamo dal governo. Lo sappiamo, lo diciamo ancora una volta, è un momento molto particolare, complesso, sappiamo che il tema delle risorse è molto difficile da affrontare, però lo abbiamo detto, come dire, pacatamente, nei mesi fermamente, ma pacatamente nei mesi scorsi, il nostro mondo ha bisogno ora di contributi a fondo perduto. Restando appunto al ministro Spadafora nella giornata di ieri, sia attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, sia attraverso anche, diciamo, sue presenze, anche su, diciamo, appuntamenti ecotelevisivi nazionali, ha annunciato che oggi il Consiglio dei Ministri varerà già un primo pacchetto di sostegni. Crediamo che siano assolutamente insufficienti, riconosciamo ecco l'attenzione del ministro, ma diciamo che saranno insufficienti, perché si preannuncia un importante assolutamente riconoscimento di un'indenità mensile per quanto riguarda il mese di novembre ai collaboratori sportivi. Speriamo che veramente fino all'ultimo centesimo venga utilizzato proprio per ristorare chi effettivamente lavora nel mondo dello sport e poi una prima misura di 50 milioni di euro a favore del mondo sportivo, con contributi a fondo perduto. Ma noi abbiamo, come dire, già visto l'esperienza dei mesi scorsi, il fondo perduto in quel caso, in moltissime situazioni, ha rappresentato poche centinaia di euro per un'associazione. Sono circa 90 mila, Enrico, le associazioni e società sportive dilettantistiche, solo quelle censite al registro pubblico tenuto presso il CONI. In questo numero mancano tutti gli enti del terzo settore, che grazie alla riforma legislativa del terzo settore possono organizzare anche loro attività sportive dilettantistiche. È presto fatto, 50 milioni diviso 90 mila fa poco più di 500 euro. Crediamo che siano ovviamente cifre assolutamente, che non abbiano bisogno neppure di commento, di fronte ad associazioni, a società sportive e gestori che nei mesi scorsi, come ben sapete, lo avete ricordato voi più volte, hanno sostenuto spese ingenti, ovviamente tutte a proprio carico, per esempio su tutta la riorganizzazione, ma su tutta anche la strumentazione, i prodotti per l'igienizzazione e la sanificazione.